Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e attivare la campanellina. L'ultima settimana del mese di novembre in Italia sarà protetta gran parte dall'anticiclone ad eccezione dell'estremo sud dove ci sarà ancora l'influenza del vortice ciclonico sul basso mediterraneo che farà un lento movimento verso il Levante. La depressione perderà man mano energia ma porterà ancora a condizionare il meteo su parte del sud Italia. Il resto d'Italia sarà nell'anticiclone dalle caratteristiche in parte nordafricane e in parte azoriane. La spinta dell'anticiclone da ovest sarà traslare via la saccatura che è responsabile della flusso delle correnti fredde scandinavi. Il flusso polare che ha raggiunto l'Italia in questi giorni si sposterà tra la Russia ed il Mar Nero. Ma comunque la depressione continuerà a lambire il sud Italia fin verso metà settimana, quando andrà a spostarsi sul Mediterraneo orientale. Le temperature saranno in un graduale aumento. Tuttavia in collina e nelle valli preparerà ancora la presenza d'aria fredda. Infatti sono previste anche inversioni termiche deboli gelate fino in pianura sul nord Italia, ma anche nelle valli più interne del centro. Però verso la metà settimana il campo di alta pressione tenderà ad innebolirsi e vicino all'Italia si andranno a creare due minimi di bassa pressione. Il primo minimo tenderà ad avvicinarsi dalla penisola eberica, mentre il secondo sarà un nucleo d'aria fredda, talvolta molto molto gelida, in espansione dal Baltico al centro Europa. E quindi da questo punto l'Italia tornerà di nuovo in una fase diciamo di maltempo e fresco. Infatti la repressione che raggiungerà l'Italia potrebbe attirare a sé aria molto più fredda presente a nord. Quindi ci aspettiamo una fine di novembre abbastanza perturbata e con moltissime sorprese. Vi aspettate. Per ora è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento meteo.